Pommie, è così figo! No, Kane è figo! Guarda! È così bello, Kane! Ma che stai facendo? Volevo farlo da tanto! Pommie, mi vuoi sposare? Certo, lo voglio! Oh, sono così felice! Anch'io! Cosa? Che figo! Ora devo lanciare il bouquet alla sposa! È una tradizione! Wow! Che era? È un bouquet? È quello che ha lanciato Pommie! C'è anche un biglietto! Adottati! Oh no! Ha funzionato? Wow, siamo nel Digital Circus! È un sogno! Fantastico! Ragazzi, guardate! Abbiamo preparato qualcosa per voi! Ora potete diventare proprio come noi! Ecco qua! Wow! Lo appenderò al muro! Oh! Ottima idea! Ora la lista sarà sempre davanti ai nostri occhi! Ragazza intelligente! Guarda, che c'è qui dietro? E che c'è dietro l'altro? Sai, possiamo iniziare il restyling con il trucco! Certo! Fatto! Sali! Sali! Che divertente! E non ci siamo ancora truccate! Ti piace? Lo adoro! Non vedo l'ora di essere come te! Ehi mamma! Vuoi vedere un trucco? Questo dito... Ora è sparito! Ahahah! Piccola burlona! Dobbiamo tenere il passo! Figlio, dove sei? Dov'è andato? Eccoti qua! Ta-da! Non spaventarmi più! Ti sei spaventato così tanto per un rossetto? Ridammelo, è mio! Non scherzare più! Ecco un tovagliolo! Togliti quel trucco dalla faccia! Aspetta! L'hai solo spalmato sulla faccia! Guardami, sono Kane! Ti sei fatto prendere la mano in fretta! Oh, il mio ragazzo! Fermo! Devi aiutarmi! Vieni, caro! Ora sarai come nuovo! Wow! Che figata! E non serve neanche lavarci la faccia! Eccellente! Uh! Uh, cara! È il momento dell'esibizione! Andiamo in fretta! Benvenuti! Ciao a tutti! Ups! Grazie! Ok, iniziamo lo spettacolo! Benvenuta, Pammi! Siete pronti per incredibili trucchi di magia? Girati! Perfetto! E ora guarda le mie mani! Ci siamo! E ora taglierò la testa di Pammi! Troom trick! Uh! Avete mai visto una cosa del genere? Applaudete! E ora proviamo qualcos'altro! Wow! Spero che nessuno mi abbia vista! Uh! Che brutto! Era solo un palloncino! Scusate, abbiamo avuto qualche problema tecnico! Ci vediamo al prossimo spettacolo! Oh, questo no! Dobbiamo scappare! Oh, ha fatto in fretta! Siamo riusciti a scappare per un pelo! Peccato che lo spettacolo sia andato male! Che delusione! Tanto esercizio per niente! Devo provare anch'io! Uh! Chi ha spento le luci? Riporta tutto com'era! Uh! Chi è stato? Vieni qua e combatti da uomo! Oh! Ancora! Tesoro, sei ferito! Quanto è grave! Oh! Avanti, togliti! Puoi aiutarmi? Questa non ci voleva! Ehi, mi hai sentito? Puoi aiutarmi? Cosa? È grave! Avanti! Togliamolo prima che ci cada dentro! Uno, due, tre! Oh, tira! Oh! Wow! Grazie! Pensavo di essere spacciato! È stato imbarazzante! Caro, il tuo cappello! Grazie, Pommy! Non c'è di che! Oh! Sono molto felice ora! Un attimo! Anche il bambino ne ha bisogno! Penso sia ora di occuparsene! Nessun problema! Ecco qua! Liberiamo il cestino! Dammi le mani! Oh! Fico! Facciamola ancora! Ho un'idea migliore! Ti piace? Provalo! Oh! Elegante! Che stai aspettando? Piaggia di Popcorn! Piccolo mago! Oh! Proprio come me! Lascia che ti faccia vedere un vero trucco! A talento! Che burlone! Cara! Sono tornata! Vieni! Sì, mamma! Ho una sorpresa per te! Wow! Che cos'è? Vediamo! Un cappello! Sì! Proprio come il mio! E il costume! Aspetta! Non tutto insieme! Prima facciamo un gioco! Se fai dieci punti riceverai un premio! Sei pronta? Ci puoi scommettere! Guarda! Wow! Ben fatto! Ne voglio ancora! Lanciamo! Segnato! Continuiamo! Ok! È stato facile! L'ho mancato! Mi serve un altro punto per vincere! Ci sono altre palline! Scusa, era l'ultima! Kane! Puoi aiutarmi? Certo! Non c'è problema! Ecco la tua palla! Abbi ne cura! Grazie, caro! Ecco a te, tesoro! Devo solo segnare! Abbiamo segnato tutti i punti! Ed ecco il tuo premio! Guarda questa bellezza! È proprio come te! Sei assolutamente splendida! Anche a me piace! Ma mancano gli scaldamuscoli! Ok, rimediamo subito! Come avete fatto? È un segreto! Ti mostro come realizzare gli scaldamuscoli firmati Pommy! Per prima cosa dobbiamo attorcigliarli e fissarli con l'elastico! Uh, che bello! Ripeti alcune volte e passa la pittura! Iniziamo dal blu e poi il viola! Dovrebbe risultare molto bello! Versiamo tutto sullo scaldamuscoli! Fantastico! E ora il secondo! Versiamo la vernice rimanente! Perfetto! Ora guarda in basso! Wow! Sei davvero una maga! Fantastico! Sono felice! Oh, Pammi! È arrivato il momento! Ed eccoci qui! I tuoi preferiti! Pammi e Kane! Forza, cari! Applausi per Pammi! Sosteneteci! Ora la taglierò a metà! E non provate a farlo a casa! Troom trick! Fatto! Bravo! Urrà! Bisso! Caro, le mie gambe si stanno allontanando! Cosa? Ups! Arrivo! Oh! Boo! Imbraglioni! Cara, alzati! L'hanno capito! Oh, non di nuovo! Corri! Ce l'abbiamo fatta! Non te la prendere, cara! Oh, guarda quella macchia! Non la vedo! Eccola! Oh, no! Dovrò comprare un'altra giacca! Non ce n'è bisogno, ci penso io! Oh, forse no! Non preoccuparti! Torna subito! Bene, da dove inizio? Giusto! Per prima cosa deve essere bagnata! Sarai pulito e come nuovo! Versiamo dell'acqua! Oh, è il mio mixer! Bisogna mescolare tutto bene! Facciamolo! Così si pulirà bene qualsiasi macchia! Oh, non posso guardare! È la mia povera giacca! Ecco fatto! Chiudi gli occhi! Bene! E adesso? Apri lì! La tua giacca è pronta! Davvero? Ehi! Ci ho ristretto! Scusa! Avrei dovuto controllare l'etichetta! Ehi, tesoro! Vieni da noi! Ciao! Wow! Che bella giacca! Posso provarla? Mi piace tantissimo! Ti prego, fammela provare! Oh, va bene, ma shh! Sì, penso sia meglio ora! Per favore! Un momento! Manca la camicia! Ci penso io! Wow! Sono un vero gentiluomo! Potrei condurre uno show tutto mio! Forte! Oh no! È Caffmo! Kane, guarda! Hai sentito? Bisogna fare qualcosa! Non avvicinarti! Stai lontano dalla mia famiglia! Dov'è il bastone? Oh no! È dietro la schiena! E adesso che faccio? Oh! No! Pommi! È così spaventoso! Per favore, stai lontano da me! Figlio! Ci salverò! Troom! Hai esaurito la carica! Abbiamo bisogno di carica! Che c'è qui? Ragazzi, per favore, abbiamo bisogno del vostro aiuto! Mettete un like al video, così potremo sconfiggere Caffmo! Eccellente! No! Siete stati bravissimi! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Aiutiamo papà! Alzati, caro! Grazie, grazie! Pigliolo ci hai salvati tutti! Per questo ti conferisco una nuova mascella! Wow! Gli sta benissimo! Ah ah ah! Che figata! Posso tenere il bastone? Beh, no! Stai benissimo! Ecco! E ora dobbiamo salire sul palco! Oh! Che bella sensazione! Sì, facile da dire! È così pesante! Oh! Grazie, cara! Le meraviglie del bodybuilding! Wow! Non sapevo sapessi farlo! Questo è solo l'inizio! Guarda qui! Wow! Non è pericoloso? Ci vorrò un po'! Ok, ora lo prendo! Oh! Sembra che abbia fatto male i conti! Ciao a tutti! Ora vi mostro qualcos'altro! Povero Kane! Un piccolo trucchetto! Vi piace il mio nuovo vestito? Niente male, vero? Come va? Oh! Vedo ancora le stelle! Troom trick! Oh! Il mio dente! Non preoccuparti, andrà tutto bene! Troom trick! Sai fare anche questo? Fantastico! E ora usciamo da qui! Stavo iniziando a preoccuparmi! Nessun problema! Ho un'idea! Darò a questo dente una seconda vita! Ha ha! Lo cospargerò di perline e brillantini! Servirà della colla a caldo! Eccellente! Aggiungiamo una catenina! Adorabile! Che bellezza! Un capolavoro! Ehi ragazzi! Venite qui! Sì papà! Eccoci! Ho una sorpresa per voi! Guardate! Wow! Un dente di diamanti! È per me? E questo è per la piccola! Bravali! Oh wow! Grazie mamma! Sei la migliore! Figurati cara! Sono meravigliosi! Sbrigatevi e unitevi a noi! Siete davvero fantastici! Ora però andate a giocare! È stata una lunga giornata! Come va? Aspetta! Ho dimenticato una cosa! Ma dove vai? Ho un altro trucco! Che sono quelle? Guarda! Hai visto? È un mini digital circus! E ora anche tu ne farai parte! Cosa? Non è possibile! Ehi! Non annoiatevi! Allora! Come si esce da qui? Guarda! C'è un'uscita! Forse possiamo scappare! Oh no! È chiusa! Cos'è quello? Guarda! La porta si aprirà se costruiamo le nostre casette! Ma come facciamo? È Kane! Questo è per voi! Per non farvi annoiare! Wow! Eccone lì! E c'è qualcos'altro! Delle to-do list! Oh! Ora ha senso! Buona fortuna! Sono sicura che possiamo farcela! Sì! Questi devono essere i materiali! Forte! I colori! Ritaglio le parti! E io le dipingo! Non ce ne staremo con le mani in mano! Andiamo! Da dove iniziamo? Dai muri! Fantastico! Dipingiamoli! Con una bomboletta spray sarà facile! La nostra casa sarà la più luminosa! Non è adorabile! E ecco a voi! Ta-da! Pan! Oh! Niente male! Anch'io ho un'idea! Troom trick gelido! Vediamo un po'! E ora? Aspetta! Oh! La poma che succede? Non rovinare la bacchetta! Prendi questo! Oh! Hai ragione! Così farò più in fretta! Va bene! Iniziamo! Prendiamo la vernice e... A tutta velocità! Che colore delicato! Mi piace! Ottimo lavoro Elsa! E il colore è bellissimo! Dobbiamo pensare a cosa fare dopo! Che ne dici del tetto? Lo farò sembrare un circo! Quale tessuto posso scegliere? E se li scegliessi entrambi? Esattamente! Ed ecco la macchina da cucire! Cuciamo insieme le toppe! Fatto! Wow! Fantastico! È proprio il tendone di un circo! Non proprio! Serve anche qualche bandiera! Uh! Quante ce ne sono! Lascia che ti aiuti! Visto? Sarà molto più semplice così! Grazie mille! Ora appendiamo tutto e fissiamolo con una spillatrice! Incredibile! E ora le bandierine! Qui! Uh! Mi piacciono! Elsa! Guarda cosa ho trovato! Credo che ti tornerà utile! Fantastico! Possiamo ritagliare le parti che ci servono dalla schiuma! Ottimo! Troom troom trick! Sembra proprio del ghiaccio! E ora un altro paio! Sì! Proprio quello che serviva! E adesso decoriamo il tetto! E cospargiamolo di neve! Wow! È venuto meglio di quanto pensassi! Fantastico! Guarda! Ha fatto un angelo! Proprio come un bambino! E ora giochiamo a palle di neve! Il tetto è pronto! Non mi piace questa porta! Ma la aggiusterò! Voilà! Disegniamo i contorni! Esatto! Uh! E ora rimuoviamo tutto ciò che non serve! Allora, cosa abbiamo? Semplicemente perfetto! Ed ecco il mio rullo speciale! Dipingiamo la nostra cornice! Fatto! In che altro modo possiamo decorare la porta? Penso che questo andrà bene! Ottimo! Che bello! Me l'arò completamente dimenticata! Ehi, cappello! Ora sarà molto più semplice! E adesso, forza! Ti trasformerà in polvere! Nessuno sbogirà alla mia mazza! Uh! Sei un asso duro, eh! Wow! Che cos'è? Una bella ghirlanda! Uh! C'è anche il cashback! Alla bambina piacerà! Ciao, mamma! Questa è per te! Non è bellissimo? Oh, sì! Grazie, mamma! Indossiamolo! Uh! Wow! È d'oro! Che bello! Grazie, mamma! Non ti distrarrò! Andiamo alla casetta! Fantastico! E ora avremo anche delle belle tende! Sistemiamole! Ce l'ho fatta! Un altro passo fatto! Ottimo! Wow! È fantastico! Lo adoro! È bellissimo! Oh! Ne ho conservato un po' anche per te! Uh! Wow! Grazie! Buona fortuna! Iniziamo segnando i contorni! Fatto! E ora passiamo al taglio! Il ghiacciolo mi aiuterà! Uh! Non è facile come pensavo! Olaf! Cos'è quello? Grazie! Ora però ci penso io! Wow! È decisamente meglio del ghiaccio! Sono certo che te la caverai! Per favore, non interferire! Fantastico! Troom trick! Wow! Proprio come nel palazzo di ghiaccio! E ora proviamolo! Uh! Non cadermi addosso! Stai bene? Forse hai bisogno di colla! Prendi questa! Grazie, Pommy! Che farei senza di te? Oh! Non c'è più colla! Oh! Lo so! Congeliamolo! Troom! Cosa? La mia magia è sparita! Lo sapevo! Ragazzi, per favore aiutatemi! Mettete un like a questo video, così i miei poteri torneranno! Elsa ha davvero bisogno del vostro aiuto! Bastano un paio di like e tutto si risolverà! Oh sì! Lo sento! Posso creare un'era glaciale! Ora non cadrà più di sicuro! Grazie, Pommy! A proposito, non è che ti è rimasta qualche tenda? Mi dispiace, Elsa, ma possiamo farne di nuove! Penso che questa potrà andare bene, ecco qua! Grande! Stai indietro, aspetta! E ora trasformiamola in un bel sipario! E fatto! Wow! Pommy, tu sei un genio! Ora le nostre porte gelate sono pronte! Mi sono perso qualcosa? Il re sta lasciando l'edificio! Uh! Guarda cosa ho trovato! Porte, prendilo! Wow! Ok! Giochiamo! Guardami! Wow! Sa cosa fare! Guarda! Perfetto! Aspetta, ho un'idea! Esattamente! Possiamo ricavarne un'ottima cornice! Spero che funzioni! Avremo bisogno di una pistola per la colla e... Allora, ha funzionato? Troom, troom, trick! Decoriamo la cornice! Uh! Niente male! E adesso prendiamo le lenti! Oh! Ora, troom, trick! Ecco fatto! L'acchio della finestra è pronto! Forte, no? Possiamo spuntare un'altra voce! Elsa, chiudi la finestra! Troppo a freddo! Sì, hai ragione! Anche noi abbiamo bisogno della finestra! Uh! Perfetto! Oh! Fa freddo! Oh! Ho un'idea! Possiamo anche decorarla con la neve! Sarà bellissima! Un po' qui e un po' qui! Non c'è un limite alla perfezione! Disegniamo dei motivi di ghiaccio sul vetro! Spero che funzioni! È così bello! Uh! Ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo! Qual è il prossimo passo? Uh! Forte! Oh! Cos'è questo? Una palla! È vostra, ragazze? Uh! Uh! Che divertimento! Ehi, smettila! Uh! Queste ragazze! Un attimo! Ho un'idea! Ehi, ragazze! Lanciatela qui! Hai sentito la mamma! Forza! Prendi! Sì! Di più! Ok! Prendi! Uh! Proprio così! Facile! Vai, Pommy! Puoi farcela! Allora, ti piace la nostra casetta? Ora sembra una parete da arrampicata! Troom trick! Ora andrà ancora meglio! Il muro è pronto! Ottimo lavoro! Devo recuperare! Pieghiamo la carta più volte e tagliamola! E ora abbiamo dei meravigliosi fiocchi di neve! Tracciamo con attenzione uno stencil! Niente male! Ehi, Pommy! Puoi aiutarmi? Certo, ragazza! Fatti da parte! Non avevo dubbi! Ti colpirò sicuramente! Vai, Pommy! Uh! Caglia! Ha funzionato! È stato bellissimo! E tu hai fatto uno splendido lavoro! Wow! Anche tu sei forte! Altro? Con piacere! Potrei farlo tutto il giorno! Sono così tanti! Troom trick! Fiocchi di neve ninja! Wow! Un lavoro eccellente! Grazie! Non ce l'avrei mai fatta senza di te! Spuntiamo il muro! Wow! E ora la banderuola! Oh! Non riesco a raggiungerlo! Sono così vicino! Oh! Devo aiutare Pommy! Troom! Troom! Trick! Che è stato? Grazie, Elsa! Nessun problema! Quando ti serve, sono qui! Ora posso fare qualsiasi cosa! E... Fatto! Grazie, ragazza! Mi ha aiutato molto! Non c'è di che! Posso unirmi a voi? Oh! Sei pronto anche tu! Oh! Ho scalato l'Averest! Sei proprio un tipo estremo! Oh! Sembra che le ragazze abbiano una sorpresa! Mamma, guarda! Abbiamo fatto l'insegna! Anch'io! E brave ragazze! Questa la mettiamo davanti casa! Questa sarà la decorazione principale! Mi ci sono impegnata tanto! Tesoro, hai davvero talento! Andiamo? Uh-huh! Sono la prima! Adorabile! Piccola e fantastica! Guarda, manca ancora qualcosa! Serve il recinto! Hai ragione! Dobbiamo fare una recinzione! Hmm... Ho un'idea! È ora di giocare seriamente! Ti aiuto io! Oh? Cos'è questo rumore? Che stanno combinando? Fate silenzio! Ehi! Siete stanche della vostra vita? Oh no! Ora ci prenderà! Uh-huh! Dov'è l'altra? Siete nei guai! E se vorrai rivedere la bambina, allora dovrà diventare Pommy! Voglio tornare da lei! Buona fortuna! Mi senti? Che cattivo! Ehi, fammi uscire! Ehi! Oh! Ora vuoi dare ordini? Va bene! Allora troverò un modo! È chiusa! Aspetta! Cos'è questo? Credo di aver capito! Devo diventare Pommy! Non voglio che ti annoi! Ecco, prendi questa lista! Ok, allora proviamo! Bene! Ho un'idea! Troom trick! Ed ecco che arriva la neve! Prendi questa! Ma che significa? Wow! Hola! Ciao Elsa! Sono un mago! Troom trick! Wow! Sei un vero mago! Che ci sarà qui dentro? Apiamolo! Tutto quello che ti serve per pulirti la faccia! Aspetta! Prima facciamo un calco! Troom trick! E ora iniziamo! Rimuoviamo i punti neri e facciamo le sopracciglia! E ora le labbra! Proviamolo! Wow! Ora va molto meglio! Bene! Il primo punto è completato! E adesso vediamo che c'è dopo! Una palla di neve! Che strano! Oh! Ci sono! Aspiriamo! Un like! Ragazzi! Mettete un mi piace a questo video per sbloccare la prossima sfida! Wow! Ottimo lavoro! E ora facciamo gli occhi! Scegliamo un colore dalla tavolozza! Il rosso andrà bene! Oh! Niente male! Ma potrebbe migliorare! Ora sono perfetti! Proprio come Pommy! Sono pronta per il prossimo compito! Dov'è la palla di neve? Troom trick! Troom trick! Trucco! Penso di potercela fare! Vediamo cosa ho qui! Oh no! È tutto congelato! E adesso che faccio? Deve esserci qualcosa di utile qui! Wow! Una beauty box che vale mille punti! Va bene per me! Ma wow! È così pesante! Oh! Che c'è che non va? Fatti da parte! Wow! Ottimo lavoro! Ha funzionato! Ora posso farlo anch'io! Grazie Olaf! Iniziamo con le liner! Wow! Che bello! E ora un po' di liner per definire le ciglia! E ora a far del labbra! Lo adoro! Continuiamo! Prossimo compito! Acconciatura! Ehi! Che stai facendo? Mi fai male! Oh! Mi dispiace tanto! Stai bene? Sono stanco! Oh! Oh! Ma che è stato? Dov'è la cella? Oh! Non ha funzionato! Resta qui! Ehi! Chi ha spento la luce? È un cilindro magico! Sono certo che ti aiuterà con i capelli! Ok! Sei pronta? Drum trick! Allora? Wow! Wow! Sei davvero un mago! E questo è per te! Wow! Sono una vera bellezza! Huggy! È ora di andare a trovare i nostri amici! Ehi! 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 Tu chi sei? Sono Huggy! Piacere di conoscerti! Ehi! Cos'è quello? È il tuo obiettivo Riccordi! Avanti! Occupatene! Oh! Ti prego! Non farlo! È troppo tardi! Oh no! Ho sbagliato! Preso! E ora non farai più del male Elsa! Hai capito? Smettila Olaf! Per favore non farlo! Gli farai male! Sei molto fortunato! Grazie! Sei il mio eroe! E tu? Oh wow! Che c'è? Beh! Non ditelo a nessuno! Oh! Questi! Posso usarli! Ma per fare cosa? Ma certo! Ho ancora bisogno del costume! Usiamo il cappello! Troom troom trick! Il costume è pronto! Ed è bellissimo! E mi sta bene! Oh! C'è dell'altro! Un bel blaster! Questi sono guanti! Oh! Potrei usarli! Cos'è quella? Sembra una botola! Mi chiedo cosa ci sia dentro! Questa è la mia occasione per uscire! Sono pronta! Avrò bisogno dei manicotti per le braccia! Oh! E ora un'immersione totale! Ma come osi! Non pensarci proprio! Ehi! È proprio quello che mi mancava! Bene! Proviamo lo stesso! Non così in fretta! Questo ti terrà buona! Wow! Ma che cos'è? Oh no! Ora non uscirò mai più! Ah ah ah! E questo ti piace? Ma che cos'è? Le mie mani sono incollate! Devo liberarmene subito! Oh wow! Guanti! Oh no! Non la passerai, Lisha! Sta iniziando ad assomigliare sempre di più a Pong! Wow! Ne è rimasto un po'! Attenta! Ecco una bomba! Prendila! Ehi! Questa non mi serve! Che vuol dire? Devi tenerla! Avanti tieni! Oh no! Sta per esplodere! Devo nascondermi in fretta! Questo non funziona! Sì! Devo nascondermi! Che spavento! Non aver paura! Ti salverò io! No! Come farai? I ragazzi figli hanno sempre una soluzione! Wow! È stata forte! E ora per loro il gioco è finito! Oh no! Povero Olaf! Sei vivo! Certo! Non era niente! Olaf! Sei il mio eroe! Non spaventarmi mai più in questo modo! E tu, Kane! Avrai quello che ti meriti! Oh! Il mio occhio! Ah ah ah! Ti sta bene! Questa è la mia vendetta! Ok! Ora siate nei guai! Non riesco a vedere nulla dove sono le gocce! Uh! Molto meglio! Uno spuntino mi aiuterà a superare lo stress! Kane! Vieni da me! Troom troom trick! Fantastico! Le mie ciambelle preferite! Che bello spuntino! Qualcosa si è incastrato! Ora finalmente posso guardare la tv! Wow! Che cos'è? Ora basta! Ehi! Ho qualcosa che piacerà a tutti! La corona di bambi! È nella lista! Sbrigate a chiamare! Ne è rimasta solo una! Devo chiamare! Pronto mi senti? Chi è che parla? Uh! Beccati questo! Uh! Che cattiveria! Aspetta solo che ti raggiunga! E se li combinassi? Uh! Ha ha ha! Ehi! Come sei arrivata qui? Eccola! Non toccarla! Ora sei nei guai! E calmati! Vieni qui! Solo un minuto! Siamo di nuovo qui con voi! Ehi! Non rilassarti troppo! Così impari a prendermi in giro! Oh! La corona è mia! Che bella! È ora di uscire! Wow! Ce l'ho fatta! E quello cos'è? Posso di sicuro farci qualcosa! Ok! Lo decorerò con delle pietre e il collare sarà pronto! Ma... Sapete? Meraviglioso! Userò il mio gadget da spia! Non se lo aspettano! Prendete il mio regalo! Wow! Che bello! Le adoro! Decoriamo il nostro colletto! Incolleremo le pietre con la colla a caldo! Uh! Bellissimo! E ora sei in mio potere! Che bello! Che bel martello! È ora di portare a termine l'ultimo compito! Sei pronto? Troom trick! Scarpe! Scarpe! Oh! È l'ultima cosa rimasta! Le mie scarpe da ginnastica non vanno bene! E adesso che faccio? Oh! Mi chiedo come affronterà questa situazione! Ha già finito tutti i compiti? Non ti lascerò uscire! Ti odio! Vieni da me, Aggie! Capo! Perché sei così arrabbiato? Senti! Devi occuparti di lei! No! Non mi sono iscritto per questo! Ora basta! Come osi dire di no? Uh! Ho detto di finirla! Uh! Torna qui! Jane! Ma che mi hai fatto? Lasciami in pace! Oh! Ora sei un pesciolino! Nessuno può spuggire al mio localizzatore! Oh no! Forse questo mi aiuterà! Mi nasconderò nella TV! Ok! Devo confondermi con l'ambiente circostante! Uh! Cosa? Una bambina? Devo andare! Oh! Michelangelo! Chi ha acceso la TV? Kawabanga! Non posso credere ai miei occhi! Prendi questo! Uh! Non sapevo che fosse una TV 3D! Ora sono Ladybug e mi piace! Ehi! Che c'è di sbagliato in questa TV? Che c'è qui? Oh no! Lo sa! Bene, bene! Bel tentativo! Ma sono io che scelgo gli spettacoli! Aspetta! Ho visto la bambina! È lì! Allora! Rimandiamo! Seguimi in fretta! Seguimi in fretta! Dov'è andata, eh? Non c'è nessuno qui! Ops! Credo che se ne sia andata! Ho un piano! Correrò il rischio! Ehi, Kane! Ti è accaduto? Devo sbrigarmi! Fantastico! Ehi, Kane! Ti ho appresa! Credo che sia andata da quella parte! Oh, ho capito! Avrei dovuto immaginarlo! Andiamo in fretta! Tu vai per prima! No, questo non va bene! Oh, Kane! Cosa devo fare? Questo sì che è uno spettacolo fantastico! Ciao! Ehi, conosciamoci! Io sono Pony! Dovrò eliminarti! Dov'è il pulsante? Ok, finalmente! Dov'è? No! Ora, ora! Pensavo di essere nei guai! È insistente! Fammi uscire! Devo andarmene! Eccomi! Ehi, bambina! Come faccio ad andarmene da qui? Sono qui, eccomi! Lascia che ti aiuti! Vieni fuori! Sono bloccata! Che devo fare? Che sfortuna! Oh, ho un'idea! Aspetta un minuto! Ehi! Attenta! Eh, scusa! Ok, me lo presti? Non osare toccarlo! Troom trick! Ehi! Ma che diavolo ti prende? Vuoi una pistola? Vuoi una pistola? Mettila sul misuratore di forza! Nessun problema! Troom trick! Oh, ci sono! Ehi! Perché? Nessuno potrà mai arrivare a mille! Aspetta! Oh, ho funzionato! Ho vinto! La pistola è mia! Tieni questo! Non servirà a niente! Salvami! Ok, fammi pensare! E tieni basta la testa! Troom trick! Cos'è un film senza i popcorn? E' di nuovo lui! Che posso vedere oggi? Uh! Fuoco! E' così caldo! Ragazzi, aiutatemi! Mettete un like al video! Così mi salverete! Vi sopplico! Oh, sì! Potrei guardare il fuoco per sempre! Aggiungiamo un po' di luminosità! Oh, sì! Fantastico! Ragazzi, sbrigatevi! O questo posto andrà in fiamme! Per favore! Mettete un like a questo video! Oh, wow! Siete fantastici! Grazie! Sono salva! È impossibile! Torna qui, avanti! Non questo! Ah, di nuovo qui! La mia maschera! Oh! Jax! Bambina! Devo aiutarla! Ne ho abbastanza! Non posso più rimandare! Ehi, Kane! Vuoi ballare? Alzati! È il momento di muoversi! Iniziamo con un tango! Ehi! Perché vuoi ballare? Pensi che ci sia bisogno di un motivo per ballare? Mi gira la testa! Vedrai che passerà! Continuiamo! Oh! I miei piedi! Non essere così teso! Dov'è questo telecomando? È qui! Oh! Questo è un topo! E qua che c'è? Oh! Un rossetto! Anche io ho lo stesso rossetto! Abbiamo entrambi un ottimo gusto! Inizia a piacermi! Fantastico! Ma dove l'ha messo? E questo cos'è? Così è troppo! Dove l'hai presa? Ridammela! Uh-uh! Sai che ti dico? Troom trick! È l'ora delle prove! Ehi tu! Questo vale anche per te! Uh-uh! Fai il bravo! Ehi! Stai bene? Ci penso io! Ok, Aggie! Sii un buon cavallo! Per favore, iniziate! Wow! Non c'è abbastanza spazio! Ok! Forza, Aggie! Puoi farcela! Attenzione alle curve! Non preoccuparti! So quello che faccio! Ma non lo so io! Va troppo veloce! Uh-uh! Non pensavo di arrivare a fare un rodeo! Nemmeno io! Ce l'hai fatta! Ne dubitavi forse! Uh! Sei così gentile! Un altro giro! Una caramella che ne dici? Oh! Sei così generosa! Prendi! Basta! Ok! Uh! Jax! Ho compagnia! Non riesco a liberarmi di lui! Non pensacci nemmeno! Aiutami! Dammi un minuto! Ehi, Glanx! Non mi prenderete! Che ne dice di una corrida? Non potrai vincere! La pagherai! Attenta! Uh! Avevo ragione! Beh, no! È così meschino! Torna dal tuo amico! Uh! Cosa hai fatto? Wow! C'è incredibile! Andiamo! Ottimo lavoro! Prendi questo mantello dell'invisibilità! Vuoi trovarlo? Funziona! Grazie, Jax! Ne avrà bisogno! Wow! Sei trasparente! Ciao! Oh! Dov'è andata? È scappata via! Ok! Dove sono andati tutti quanti? Forse la ragazza è qui! Cos'è questo odore? Uh! E' ciù! Uh! Chi è stato? Spero solo che non mi trovi! Forte silenzio! Ti troverò! Chi è questa ragazza così dolce? Uh! Adoro le ciambelle! Sono il mio dolce preferito! Che c'è di meglio? Uh! Dov'è il bagno? Il dottore me l'aveva detto di non mangiare cose dolci! Uh! Questo mi salverà! Troom, trum, tric! Uh! Ci è mancato poco! Devo andarmene in fretta! Uh! Credo di conoscere il suo punto debole! Questo potrà essere d'aiuto! Devo prepararmi! Vieni fuori, Kane! Ti sfido a combattere! Uh! Aspettavo questo momento! Sfida accettata, allora! Uh! Mi sento meglio! Dov'ero rimasto? Uh! Pommi! Combattiamo! Con grande piacere! Difenditi! Uh! Sono pronta! Non credere che sarà facile! Uh! Non ti lascerà vincere! Che te ne pare? Ti prego! Non le caramelle! Uh! Non mi prenderai più in giro! E questo lo prendo io! È ora di riprendere quella bambina! Troom, tric! Uh! Grazie! Piccola, ciao! È ora di andare! Uh! Sono tornata nel mondo sottomarino! Vieni tu da me! Non così in fretta! Non te lo permetterò! Troom, tric! Non vi incontrerete mai più! Piccola! Dimenticatela! Nuovi spettacoli ti aspettano! Ecco qua! Ti presento i tuoi colleghi! Oh! Unisciti a noi! Sei tu? Ok! Ciao a tutti e benvenuti nel nostro Digital Circus! Forza! Signore e signori, non perdete l'occasione! Ho aspettato di venire qui per tanto tempo! I vostri biglietti entrate! Bene, bene, bene! Tu non passerai! Ma ho il biglietto! Che c'è che non va? Non sai leggere? Niente, nerd! Non è giusto! E questo cos'è? Ehi, baby! Giochiamo! Ma come? Ti servirà un joystick? Grande! Proviamo! Ma cosa devo premere? Wow! Ciao, piccola! Benvenuta! Ti piace questo posto? Come ci sono finita qui? Siamo quasi arrivati al circo, ma abbiamo bisogno che tu apra la porta! C'è davvero un circo lì dietro? Hai visto? Non possiamo entrare! Per favore, fai qualcosa! Per favore, aiutaci! Ehm, ok! Troom trick! Beh, no! Non ti farò entrare! Correte! Bene, bene, bene! Bene, che vedo qui! Te l'ho detta che non puoi entrare! Che possiamo fare? Non pare troppo rumore! Ragata, non ti avevo avvertito! Ora fai vedere quello che sai fare! La danza dell'incantevole e incredibile Ragata! Come vuoi tu, Kate! Sono pronta a ballare tutto il giorno! Ops! Oh! Di nuovo! Scusa, capo! Lo aggiusterò! Basta! Pommi! Avanti! Fai una vera performance! Sì, signore! Il mio braccio! Tu finirai alla discarica! No, questo no! Questa era la tua ultima performance, Pommi! Ehi, smettila! Sta già soffrendo! Cosa? Tu che sei? Come osi dire che posso sbagliare? Non hai il diritto di fargli questo! Non sono i tuoi giocattoli! Lasciali andare! Oh, un'idea geniale! Ora sei il nuovo membro del Digital Circus, Troom Trick! Ehi! Sostituirai Pommi! Oh, d'accordo! Aspettate un attimo, signore! Ho un'altra sorpresa! Guardate, Troom Trick! Sbrigatevi! Cosa è stato? Ehi tu! Non far aspettare il maestro! Corriamo! Non vengo qui da tanto tempo! Che è successo? Dove pensi di andare? Pommi! Più in fretta! Solo un minuto devo occuparmi di una persona! Allontanati da me! Pommi! Oh, chi è questo? Ciao, ragazze! Fai attenzione! Glikes è qui! Di che stai parlando? Non sei nessuno, Jax! Ti occuperemo di te! Ma non così! Aiuto! Fermati! Lascialo! O le cose peggioreranno! Lasciaci andare! Non possono farlo! Lascia che ti aiuti! Tieni duro! Ti tirerà fuori! Vuoi dei guai, Jax? Stai lontano dai miei amici! Così è meglio! Dobbiamo prenderli! Salta! Laggiù! Guarda! Si incastrano come un puzzle! Prendi questo! Potrebbero tornarti utili! Fantastico! Ho un'idea! Li cuciremo insieme! Bene! Iniziamo! Ora colleghiamo le parti! E aggiungiamo un cinturino e una fibbia! Troom trick! La gonna è pronta! È così appiccicoso! Tesoro, credo ti starà benissimo! Wow! Stai benissimo! Aspettate! Non ce la faccio più! Ecco, ora non mi disturberai! Guarda! Siamo di nuovo fuori! Oh no! Che succederà alla bambina? Spero solo che stia bene! Sbrigati! Non dobbiamo perdere tempo! Questa è la sala di controllo! Guarda! Benvenuta nella tua nuova casa! Mettiti comoda! Sono io! Oh voi ragazze birichine! Ci trovate! Ragata, fai in fretta! È dappertutto! Torniamo indietro! Avanti! Ci ha mancato poco! Sorpresa! Non potrete scappare! Ragata, fai la brava! Dove stai andando? Pommi? Siamo connessi! Questo no! Ottimo! Ora giocheremo! Connessione perfetta! E adesso ballate per me! Oh no! Lo stai facendo di nuovo! Lasciami! Mi piace! È stato bello! Oh no! Così non va bene! Ok! Ci siamo divertiti! Stai bene! Mi stavo cercando! Guardate cosa ho trovato! Ripeteremo il nostro trucco! Ragata, tu sarai la prima! No! Non voglio farlo! Ci proverò! È tutto pronto! Ti piacerà! Una motosiega è molto più efficace! Jax, per favore non farlo! Ti prego! Prendici! Jax! Me ne occupo io! E ora... Troom trick! Che stai facendo? Povera ragata! Ta-da! Sei nei guai? Non credo proprio! Andrete alla discarica e buon viaggio! Wow! Sono così alta! Te l'avevo detto che sarebbe stato fantastico! Che ne dici? Il mio unico amico! Mi mancherai! Non farlo più! Perché scappare? Ok, ora sistemeremo tutto! Il nostro adesivo farà sicuramente il suo lavoro e tornerà come nuovo! Davvero? Posso già alzarmi? Troom trick! Oh, iniziavo a preoccuparmi! Sei tornata! No, non c'è da preoccuparsi! Sono un professionista! Ragata, sei pronta? Dobbiamo andare! Cos'è? Hai visto cosa ho trovato? Passiamo alle prove? Ma che stiamo provando? Aspetta, ti faccio vedere! Mettiamo la testa nella bocca del mostro e gli grattiamo il naso! E' giù! Ce l'ho fatta! Ora provaci tu! Prima tu! Ok! Dov'è il suo naso? E' giù! Oh no! Mi ha afferrato! Aiuto! Oh! Allora fa sul serio! Aspetta! Ti salverò io! Lasciala andare, stupida volpe! Sta stringendo troppo! Oh! Ehi, dove è andato, Pony? Il suo cappello torna qui! Che farò senza di te! E io! E la volpe! Nessuno può sostituirla! Cos'è stato? Stai lontana da me! Oh, Pony! Sei tornata! Non strangolarmi! Sono uno spreco di spazio! Andiamo, volpe! Piccola, abbiamo un cappello per te! Wow! Grazie mille! Mi sento già una star! Una? Ottimo! Chi c'è lì? La scoprirà! Non parlo! Perché? Che c'è di male? Oh no! Aspetta! Ehi! Corri! E' Crafmo! Devi nasconderti! È così spaventoso! Peccata! Pony in fretta! Speriamo che non se ne accorga dove sono andate! Volete giocare a nascondino? Ti ho trovata! Pony! Poverina! Non posso guardare! Pony! Tieni duro! Ti salverò! Ehi, Crafmo! Guarda la luce! Dove? Dove? Prendi questo! Uhuh! È mio! Ha funzionato! Ti riporterò in vita! Oh! Questo non va bene! Ragazzi, per favore aiutatemi! Mettete un like a questo video per dare la vita a Pony! Grazie! Ragatta! Servono più like? Vi prego! Funzionerà ancora un po'! Fatto! Come ti senti, Pony? Mi avete salvata! Grazie! Guarda, Crafmo è tornato! Luce! Ora lo prenderò! Cerca di prendere questa! Oh! Vai, Ragatta! Dov'è andata la bambina? Ce n'è andata? Aspetta, non fare rumore! Ok! Ragatta! Sei qui? Ragatta! E io? Shhh! Vuoi che torni oppure no? Dobbiamo nasconderci! Adesso... Dove sono finiti quelli idioti? Non preoccuparti, è un piano! Troverò una soluzione! Ehi, sono qui, stupidi scemi! Prendiamolo! Sei sicuro che funzionerà? Ti aiuto io! Ehi, sfigati! Siamo qui! Smettila di prenderci in giro! Te la faremo vedere noi! Non ci spaventerai! Pony! Quando è troppo, è troppo! Evviva! Ha funzionato! Sono in trappola! Te l'avevo detto che avrei trovato una soluzione! Grazie, Jax! Ci hai salvati! Buona fortuna! Fatto! Ottimo lavoro! Oh! Cos'è? Ehi, Pony! Vieni qui! Questo è per te! Che stai facendo? Non farlo! Allontanati! Io prenderò la mira! Tieniti forte! Non disturbare! Ne ho abbastanza! Ora lo farò con gli occhi chiusi! Non sta guardando!